Tagli del governo e servizi essenziali, a cominciare dal welfare. Dibattito ieri sera a Parma Europa, con replica questa sera alle 23. Tra comune, sindacati e opposizioni le distanze rimangono, specie dopo la lettera aperta inviata da Cigiele e Cisleuil al sindaco Pizzarotti. Relazioni sindacali inesistenti, ora basta, questo è il senso della missiva. Ma l'assessore Rossi ha risposto così. Con i sindacati noi abbiamo tanti tavoli aperti, io personalmente lavoro benissimo, per esempio su tutto il discorso politica abitative, per me sono degli interlocutori fondamentali, vengono ai tavoli, discutiamo di cose, di bandi, cose concrete e arriviamo anche ai risultati. Ai cinque protocolli? Per la Tasi abbiamo lavorato insieme anche con Bussandra e Ghillani, perché quando ci sono da fare delle cose, delle risorse da condividere, come utilizzare, funziona la concertazione benissimo. Il problema è quando ci si siede al tavolo e si dice che ci sono dei problemi, perché a quel punto con i sindacati si chiude, nel senso che la risposta è il problema è vostro, trovate le risorse, i tagli sono inaccettabili. Va bene, però se c'è un problema dobbiamo condividere anche quali sono le priorità a quel punto, non rimandarci che le priorità sono una scelta nostra, salvo poi dire che siamo confuse, che le risorse le dobbiamo trovare, che sono tutti problemi nostri. Quindi questo è un problema, è un problema fondamentale. Dopodiché, rispetto a quello che è successo in queste settimane, il 24 l'assessore Ferretti, che è l'assessore al bilancio, aveva gli esami in università, quindi ci sembrava assolutamente inopportuno fare un tavolo senza l'assessore al bilancio. Abbiamo chiesto di spostarlo. Detto questo, non facciamo tutti questi tavoli, perché di fatto da ottobre non è cambiato nulla. Quello che noi sappiamo dal governo è che anche noi, fortemente, continuano a mancare 20 milioni di euro, noi ne abbiamo recuperati 9, questi 11, è vero che Anci dice che probabilmente ci saranno, che probabilmente il governo li restituirà, probabilmente con la stessa formula dell'anno scorso, ma noi per iscritto non sappiamo niente, finché non esce un decreto del governo che dice vi restituiamo enti locali, perché sono 8 mila i comuni a rischio default in questo momento, vi restituiamo parte delle entrate, con le modalità che sono queste, ci dice quali sono, noi non possiamo fare ipotesi. Allora, Laura Rossi dice, è inutile che noi vediamo i sindacati, non c'è niente da discutere. Allora, non è così che si concerta, dicendo inutile quindi non ti chiamo. Noi ci siamo visti, ripeto, ad ottobre e c'era stato promesso che ci saremmo rivisti per vedere, era stato ipotizzato che di fronte a un manco di quel genere potevano esserci delle conseguenze. Ma noi avremmo voluto esserci, ascoltare le problematiche, avere una visione del bilancio un po' più chiara di quella un po' abborracciata che c'è stata in quella riunione, avere veramente un dato e poi ragionare, perché siamo capaci anche di affrontare le difficoltà. In Emilia-Romagna e in Lombardia, gli accordi fatti dalle organizzazioni sindacali sono presi a modello in tutta Italia per l'innovazione, per la capacità di mettersi nelle condizioni date e trovare delle soluzioni. Allora, senza integralismi, senza muri, noi vogliamo trattare ma andando verso la direzione di un accordo, non per rompere le scatole ai 5 Stelle. Dirci che siamo stati pollici è un'offesa, perché vuol dire non avete niente da dire e quindi non vi chiamo. Cioè, non è questo il modo, è quello che il sindaco ci ha scritto nella lettera di risposta alla nostra prima lettera. Cioè, voi buttate la palla avanti, no, noi non buttiamo la palla, noi affrontiamo i problemi nel merito. Abbiamo fatto delle proposte, sono 5, va bene, potranno essere discutibili, però vogliono costruire un contesto in cui discutere...